Con il livello di regolazione bianco e nero generalmente vai a convertire la tua immagine a colori in un'immagine in bianco e nero, ma volendo puoi utilizzare questo livello di regolazione anche per andare a determinare la luminosità dei colori presenti sulla tua immagine. Quello che devi fare è andare ad aggiungere un nuovo livello di regolazione bianco e nero, andare a impostare un metodo di fusione su luminosità e dai cursori presenti nel pannello proprietà puoi andare a decidere la luminosità dei colori presenti sulla tua immagine. Io sono Gianmarco Miaton di trainingcreativo.com e ti aspetto nella mia Photoshop Academy. Clicca il link qui sotto. Grazie.